Non vedo un grande caso, nel senso, noi abbiamo avuto dei provvedimenti bonus che abbiamo denunciato in Radio Cittadinanza, il super bonus così come è stato strutturato, cambiato in corso d'opera, con una serie di modifiche. Io ricordo le dichiarazioni molto forti di Draghi, mi pare il 22 luglio dello scorso anno, che imputò a questa cessione dei crediti un vero e proprio disastro. Lo fece lui da analista politico in quella fase, ma certamente esperto di numeri, e noi oggi ci troviamo di fronte a una situazione che dobbiamo riparare. Lo si sta facendo e va tenuto conto, e su questo già ieri è emersa la volontà del governo di affrontare il tema, tenendo conto che quello che è accaduto è semplicemente economicamente e finanziariamente irragionevole e pericoloso. Quindi da una parte va salvaguardato il mondo delle imprese, il lavoro, gli impegni assunti, dall'altra parte tutte le degenerazioni che hanno portato a questa criticità vanno affrontate con la stessa fermezza, limitando i danni per lo Stato che possono emergere. Perché lo Stato siamo noi cittadini e quindi il costo di quel provvedimento pro capite basta farlo. Si tratta di più di 100 milioni oggi di crediti che girano, divideteli per la popolazione italiana e vedete quanto questo provvedimento è costato ai cittadini, specie i più deboli, per testa. C'è un incontro di maggioranza sul Superbonus, viste un po' le polemiche sollevate da Forza Italia, non si è sentita coinvolta nel ragionamento, anche la Lega, ci sarà secondo voi un momento di chiarimento con la maggioranza su questo, visto quello che è successo ieri. Anche perché l'elemento sul Superbonus è stato introdotto all'ultimo minuto e questo ha fatto un po' arrabbiare. Guardi, a me risulti, al governo ci sono diversi ministri che come me hanno ieri votato in favore di questo decreto che è stato proposto proprio per porre riparo a un problema che poteva diventare ancora più grave anche per gli enti locali che si facevano carica di procedure sulle quali qualche dubbio e perplessità può intervenire. E quindi è stato un modo anche per risolvere questo problema ed evitare danni più gravi. Dopodiché sulle soluzioni è necessario sempre un confronto attivo. Figuriamoci se noi in maggioranza quotidianamente non cerchiamo di affrontare tutti i problemi che possono emergere cercando di trovare delle soluzioni che siano capaci però da una parte di salvaguardare la cosa più importante che è il nostro mondo imprenditoriale e dall'altra parte la finanza pubblica perché è il portafoglio dei cittadini.